Siamo nello stand dell'Associazione Radio Gliumatori Italiana di Casale Monferrato, in compagnia del Vice Presidente. Buonasera a tutti, mio nome è Giuseppe Piccagli Mora, per gli amici Pinuccio, il mio nominativo è Z1KKM, sono Vice Presidente della sezione di Casale Monferrato, che si trova in via Verona 1 in Casale. Siamo molto felici di essere qui alla 74esima mostra regionale di San Giuseppe in Casale, ringraziamo le autorità locali, quindi il Comune, l'Ufficio Manifestazioni di Casale, che ci ha permesso di partecipare. La nostra partecipazione risale a molti anni fa, quindi diciamo che dopo un periodo di assenza e dopo i due anni di Covid ci stava bene. Abbiamo lo stand, abbiamo allestito lo stand con i nostri associati, abbiamo portato qui nello stand diverse apparecchiature radio, sia in HF sia apparecchiature che sono utilizzate in caso di emergenza. Infatti poi potete vedere la valigia che usiamo in caso di emergenza quando siamo chiamati anche dalla protezione civile locale con cui collaboriamo. Io ricordo che la nostra sezione è aperta tutti i venerdì sera, la patente per diventare radiomatori è possibile prenderla anche a solo 16 anni, quindi chi ha compiuto 16 anni può chiedere l'autorizzazione per poi passare l'esame per avere la patente del radiomatore. La nostra attività sul territorio è quella appunto di collaborare con la protezione civile, collaborare con le autorità locali in caso di emergenza, in più facciamo dei corsi radiobase per associazioni di ogni genere. In più abbiamo una stazione qui all'aeroporto di Casale che si collega con gli astronauti con la stazione spaziale ISS. Questo è frutto di anni di lavoro, di collaborazione tra noi e l'ARIS che è l'associazione dei radiomatori per la ISS.